Tutti noi conosciamo il gioco del dinosauro che appare quando sei offline Ma ci sono delle storie attorno ad esso inquietanti Che ho trovato su internet e che oggi vi racconterò E cercheremo di capire se sono storie inventate oppure può essere successo davvero Fatemela raccontare Chiamiamo il protagonista Jack Jack e i suoi amici spesso giocano al gioco del dinosauro quando sono annoiati E fanno gare barra penitenze a chiunque faccia il punteggio più basso Ultimamente però a Jack sta succedendo qualcosa di veramente strano Spesso anche quando non hai il computer davanti Riesci a vedere con la coda dell'occhio il dinosauro pixelato Dopo un controllo oculistico Jack fa una scoperta incredibile Ma pure può esserci qualcosa di occulto che ti fa avere queste visioni Quindi il gioco del dinosauro è un gioco occulto maledetto pazzo No Grazie a tutti Grazie a tutti